buongiorno a tutti e ben ritrovati a tutti i nostri lettori da oggi riprendiamo il nostro video bisettimanale ve lo ricordiamo il lunedì e il giovedì e ovviamente ripartiamo con un video dedicato alla riapertura dell'anno scolastico ormai siamo in direttura d'arrivo alla ripresa delle lezioni mancano due settimane in pratica dieci giorni lavorativi e di questioni in sospeso ce ne sono ancora diverse soprattutto sta esplodendo il problema dei trasporti peccato però che il tema doveva essere affrontato e possibilmente risolto non dal ministero dell'istruzione bensì dal ministero dei trasporti e dalle regioni regioni alcune almeno che da qualche giorno stanno dicendo che avvalendosi delle proprie prerogative potrebbero rimandare al 23 o al 24 settembre l'inizio delle elezioni se così dovessero andare le cose il governo sarebbe forse anche un po' contento perché si potrebbe far ricadere la responsabilità del rinvio almeno in parte sulle regioni stesse d'altronde sul regolare avvio dell'anno scolastico pesano diverse incognite legate anche al fatto che le emissioni in ruolo non andranno affatto come finora annunciato non ci saranno 85 mila assunzioni ma molte di meno forse si arriverà a 30 35 mila al massimo come era facilmente prevedibile in quanto in molte province del nord soprattutto le graduatorie ad esaurimento sono ormai pressoché vuote gli esami sierologici del personale procedono in ordine sparso a seconda delle decisioni assunte dai diversi assessorati regionali il comitato tecnico li aveva previsti come facoltativi ma diversi esperti continuano ad affermare che dovrebbero essere obbligatori e per convincere gli insegnanti a sottoporvisi sono intervenuti con un appello persino personaggi dello spettacolo e persino sulla questione delle mascherine arrivano messaggi un po contrastanti anche se almeno per il momento la regola sembra chiara niente dispositivo all'infanzia mascherina obbligatoria invece dalla scuola primaria in su a meno che non si riesca a garantire il distanziamento di un metro prosegue poi la polemica sui banchi monoposto quelli già consegnati grazie alla fornitura ordinata dal commissario domeni corculi sono normalissimi banchi di vecchia concezione qualche scuola che già in precedenza si era organizzata con fondi propri ha ricevuto invece arredi innovativi e su tutte le scuole del paese incombe il problema dei problemi anche quest'anno si dovrà assumere un numero impressionante di supplenti si parla di 200 mila sicuri ma i sindacati temono che si possa arrivare a 250 mila unica buona notizia grazie all'ultimo decreto approvato dal governo i dirigenti potranno nominare i supplenti già a partire dal primo giorno di assenza del titolare sempre che le nuove graduatorie provinciali entrino in funzione per tempo bene su tutti questi temi noi ovviamente continueremo a tenervi aggiornati su questo canale ma anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it quindi continuate a seguirci a leggerci ma soprattutto a farci conoscere le vostre impressioni e a farci conoscere le vostre esperienze noi ne daremo conto come sempre